Buongiorno a tutti amici e bentornati qui in compagnia del vostro Emanuele e oggi sono decisamente euforico perché vado a parlarvi di uno smartphone economico, parliamo infatti di una cifra intorno ai 199 euro direttamente acquistabile su Aliexpress con spedizione gratuita e senza girarci troppo attorno il protagonista della recensione di oggi è lui, il Cubot X90. Uno smartphone economico ma dà le caratteristiche interessanti a partire dalla fotocamera principale da 100 megapixel ma non spoilero ulteriormente quindi vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentare questo video, condividerlo, cliccare sulla campanella insomma chi più ne ha più ne metta per aiutarci a crescere in questo mondo e quindi offrirvi sempre contenuti maggiori. Detto ciò mettetevi comodi e partiamo con la recensione di Cubot X90. Eh sì ragazzi, il Cubot X90 è uno smartphone economico ma non per questo dobbiamo classificarlo come il solito cinesone perché lui ha nella sua manica tanti assi da giocarsi. A partire proprio dal prezzo 199 euro acquistabile su Aliexpress con spedizione gratuita e a questo prezzo ci portiamo a casa uno smartphone validissimo a partire dalla costruzione decisamente ottimale e con un design che ricorda in un certo senso il Motorola Age 30 Fusion che ho tanto apprezzato nella mia carriera da recensore. Parliamo infatti di bordi decisamente curvi sia per quel che riguarda la scocca sia per quel che riguarda il display. Abbiamo una costruzione sì in plastica ma davvero di altissimo effetto. Infatti sulla back cover troviamo una doppia lavorazione con la parte inferiore con una plastica opaca mentre la parte superiore con un effetto marmorizzato che dona degli splendidi giochi di luce quando colpito proprio dalla luce diretta del sole. Troviamo poi una sorta di oblò in cui sono incastonate quattro ottiche e un flash led single tone. Non troviamo il sensore di impronte digitali perché udite udite lo troviamo incastonato sotto al display in quanto parliamo di un'unità AMOLED ma di questo vi parlo un po' più avanti. Per quel che riguarda i profili anch'essi realizzati in plastica ma appunto con curvatura 3D beh ci regalano un ottimo grip al netto di dimensioni comunque generose. Parliamo infatti di 162,2 x 74 x 9,35 mm di spessore ed un peso di 207 grammi. Un peso comunque giustificato dalla capiente batteria all'interno un'unità da 5100 mAh che supporta la ricarica rapida a 33 Watt. Sul profilo superiore troviamo il secondo microfono per la riduzione dei frusci in chiamata e un qualcosa che apparentemente sembrerebbe il blaster IR. In realtà questo che somiglia appunto a un trasmettitore a infrarossi nient'altro è che la posizione dei due sensori di prossimità e luminosità. Sensori che lavorano decisamente bene soprattutto quello di prossimità che è di tipo fisico e quindi nessun problema quando portate lo smartphone al vostro orecchio in fase di chiamata o ascolto di note vocali ma la posizione ahimè è un po' infelice in quanto se andrete ad esempio a effettuare dei giochi e quindi metterete lo smartphone in landscape potreste coprire il sensore di luminosità che quindi si andrà a abbassare e quindi l'esperienza non sarà proprio delle migliori. Ad ogni modo sul profilo invece inferiore troviamo lo speaker di sistema di tipo mono, l'ingresso USB Type-C con supporto OTG ma niente uscita video, secondo microfono e lo slot per le sim in grado di ospitare due sim in formato nano con connettività dual 4G ma niente espansione di memoria. Completano poi la posizione del bilanciere del volume sul profilo sinistro e il tasto di accensione sul profilo destro. Come dicevo il sensore di impronte digitali è posizionato al di sotto del display. Devo dire che lo sblocco avviene in maniera abbastanza rapida e soprattutto sempre efficace 10 volte su 10. La posizione peraltro è davvero ben ottimizzata e quindi riuscirete a sbloccare tranquillamente lo smartphone sia con mano destra sia con mano sinistra. Tornando un attimino invece al discorso dello speaker appunto di tipo mono purtroppo si sente l'assenza in determinate situazioni di avere uno speaker stereo anche perché non abbiamo alcun jack per le cuffie se non sfruttare l'uscita USB Type-C con auricolari cablati ma con questo formato. Ad ogni modo però buono il volume, buona anche la presenza di bassi seppur non è un audio di altissima qualità. Venendo al frontale troviamo una delle chicche di questo smartphone. Infatti lui è dotato di un display curvo AMOLED Full HD Plus con diagonale da 6,67 pollici e refresh rate a 120 Hz. Abbiamo un profilo colore DCI P3 del 100% e definizione di 395 ppi con un picco di luminosità di 1550 nits. Questo significa che riusciamo tranquillamente a visionare ogni contenuto a schermo anche sotto luce diretta del sole. Purtroppo non abbiamo un pannello di altissima qualità nel senso che non supporta contenuti HDR e ahimè purtroppo non supporta nemmeno i contenuti Widevine di livello 1 che significa che su piattaforme in streaming come Netflix, Amazon Prime Video e quant'altro la qualità video non sarà di altissima definizione ma semplicemente in SD. Per il resto però devo dire che l'immersione nei contenuti multimediali è garantita. Parliamo comunque di un display ben tarato e comunque a corredo a livello software abbiamo tante possibilità di calibrazione del colore, del contrasto, della temperatura colore e quant'altro. Ma personalmente l'ho lasciato così come uscito fuori dalla scatola e sono comunque riuscito a godermi tante serie tv e contenuti multimediali in generali. Peraltro le cornici sono ben ottimizzate regalando un effetto wow quando proprio andate a visionare dei contenuti qui su questo Cubot X90. Unico elemento di disturbo tra virgolette è la selfie camera incastonata in un panciol quindi comunque un design moderno una selfie camera da 32 megapixel che permette anche lo sblocco tramite un lock face quindi oltre a quello tramite sensori di impronte digitali o il classico pin o pattern che sia potete beneficiare anche dello sblocco tramite volto che riesce a sbloccare lo smartphone anche in condizioni di illuminazione non proprio favorevole. Parliamo allora di cosa fa girare questo Cubot X90 che sotto la scocca ci offre un processore Mediatek G99, una soluzione octa-core a 2.2 GHz di clock con processo produttivo a 6 nanometri a cui si affianca una GPU Mali G57 e come unico taglio a disposizione per RAM e storage troviamo ben 16 GB di memoria RAM LPDDR4 e 256 GB non espandibili di tipo UFS 2.1 quindi non un hardware di altissima potenza ma devo dire che tutte le operazioni riusciamo a compierle sempre senza alcuno sforzo e soprattutto senza che lo smartphone si riscaldi. Possiamo tranquillamente gestire i giochi del calibro di Asphalt 9, Call of Duty mobile ma tanti altissimi titoli senza che lo smartphone appesantisca la sua performance e soprattutto ribadisco senza alcun surriscaldamento. Qui le buone prestazioni sono date anche dal fatto che a livello di sistema operativo troviamo Android 14 con patch di maggio quindi le ultime rilasciate fondamentalmente su smartphone non Google e devo dire che il sistema è decisamente semplice parliamo infatti di Android stock senza alcuna aggiunta di bloatware o applicazioni di terze parti pochissime le personalizzazioni da parte di Qbot e devo ammettere che ho apprezzato questa scelta proprio perché il sistema a conti fatti è sempre risultato fluido senza alcun lag senza alcun rallentamento. Non ho avvisato riavvii diciamo improvvisi e soprattutto posso installare a mia scelta qualsiasi tipo di applicazione. Peraltro a livello di connettività abbiamo la presenza di un GPS che supporta anche i satelliti Galileo, un wifi a doppia banda, bluetooth 5.2 e il sensore NFC per effettuare i pagamenti in mobilità con supporto a tutte quante le piattaforme soprattutto Google Wallet. Un sistema così semplice permette quindi l'utilizzo a chiunque che siate dei neofiti o che siate degli utenti un po' più smanettoni ma a conti fatti beh per quanto voi possiate smanettarci sopra sappiate che la batteria vi regala un'autonomia decisamente eccezionale. La batteria da 5.100.000 ampere orari abbiamo detto che supporta una ricarica rapida a 33 watt ma soprattutto considerando un hardware non proprio esoso in termini energetici e soprattutto la buona ottimizzazione col software stock beh riuscirete sempre 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 ad arrivare a sera con almeno un 30 per cento di carica residua e qua parlo di condizioni dove comunque avete tanto sfruttato lo smartphone ma per utenti un po' più comuni diciamo per un utilizzo un po' più classico beh questo Qbot X90 riuscirà a farvi arrivare anche a due giorni pieni di utilizzo. E veniamo a quello che dovrebbe essere un ulteriore pezzo forte di questo smartphone ovvero il comparto fotografico perché a livello di sensore principale abbiamo un'ottica da 100 megapixel con apertura f1.9 e messa a fuoco pdf. Si susseguono poi ulteriori tre ottiche una 16 megapixel ultra wide con field of view di 117 gradi e poi un'ottica da 5 megapixel che si rivolge più che altro alla fotografia macro e poi un sensore da 0,3 megapixel che in realtà serve unicamente a raccogliere i dati di luce e di profondità di campo. Ma venendo proprio all'ottica principale da 100 megapixel beh devo dire che riusciamo a portarci a casa degli ottimi scatti ma unicamente se scattate in condizioni di buona illuminazione perché in realtà al calare della notte si vede che è un sensore ultra economico infatti il rumore di fondo è decisamente presente e soprattutto la mancanza di dettagli per quello che avete catturato si fa notare. Si fa notare poi anche l'assenza di una stabilizzazione che tendenzialmente dovrebbe essere unicamente di tipo digitale ma in realtà è come se fosse proprio assente però con una buona mano ferma riusciamo comunque a garantirci dei video di buona qualità che riescono a essere registrati fino ad una risoluzione di 2k ma sempre ed esclusivamente con 30 fps. La selfie camera è un'unità da 32 megapixel anch'essa come un po' l'ottica posteriore riesce a garantirci delle buone foto ma non da spingere in condizioni dove l'illuminazione è sfavorevole. Però però ragazzi sappiate che possiamo in un certo senso con un piccolo escamotage installare la google camera. Ebbene sì possiamo installare su questo dispositivo dotato di cpu mediatek la google camera e quindi a conti fatti innalzare la qualità di foto e video sfruttando proprio l'algoritmo nativo dei google pixel. Per onor di cronaca però tutte le foto che io adesso vi sto mostrando sono state scattate con l'applicazione stock che di base non offre chissà quali funzionalità ma tutte quelle necessarie come la possibilità di sfruttare l'hdr sono presenti. Per quel che riguarda le chiamate sappiate che abbiamo a disposizione il dialer stock di google che permette nativamente anche la registrazione delle chiamate e per quel che riguarda invece la qualità proprio della chiamata devo dire che sono rimasto stupefatto. Infatti i doppi microfoni lavorano decisamente bene e soprattutto permettono di offrire al nostro interlocutore una qualità audio decisamente pulita e cristallina. Buona anche la navigazione a livello di velocità che non raggiunge valori eccezionali ma comunque sempre costante e soprattutto permette di avere appunto una navigazione fluida senza tentennamenti. Devo però segnalare che il sistema almeno nel mio caso supporta tranquillamente il 4g ma non riesce a spingerci all'aggregazione delle bande del 4g plus. Abbiamo però a disposizione la possibilità di effettuare chiamate tramite il wifi. Non è invece presente la funzionalità o meglio la possibilità di gestire delle sim elettroniche. E quindi ragazzi per giungere le conclusioni per 199 euro vi portate a casa uno smartphone più che vaito. Per carità non brilla sotto nessun aspetto di quelli che abbiamo trattato ma è uno smartphone completo e quello che promette lo porta sicuramente a termine in maniera sublime. Non ho riscontrato problemi in chiamata, non ho riscontrato problemi in navigazione. Riusciamo a portarci a casa anche delle orette di gaming senza surriscaldamenti. Abbiamo un bellissimo design ma soprattutto per questa fascia di prezzo abbiamo un sensore fotografico da 100 megapixel e un ottimo e bellissimo display AMOLED. Quindi ragazzi mi raccomando qui sotto in descrizione troverete il link per procedere all'acquisto ma non fatevelo scappare perché lui al momento è in offerta ma a breve dovrebbe innalzarsi il prezzo e soprattutto troverete anche il link alla recensione testuale con maggiori approfondimenti. Detto ciò per Emanuele è tutto, noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!